Lungo il fiume Lamone si sono sviluppate diverse attività. Qui abbiamo il giornale, il Lamone, che per un certo periodo è stato l'organo di stampa che accomunava le varie comunità del Lamone. Poi a Mezzano, la cooperativa meccanica, a un certo punto aveva realizzato il motorino da applicare alla bicicletta, motorino a due tempi, il classico 48, costava 42.000 lire, incluso l'Igge, l'imposta generale sull'entrata, che è un po' l'equivalente dell'IVA di adesso. E questo è una rappresentazione dell'attività. Poi abbiamo la mostra fotografica di circa 40 anni fa, che inizia da Marradi, che è ovviamente il primo comune di Sarto della Lamone. Da Marradi si scende verso Brisighella e quindi abbiamo l'elemento paesaggistico, l'elemento culturale, il giornale, e l'elemento della vita produttivo, che è il motorino applicato alla bicicletta, che era lo strumento di comunicazione di quei tempi. Quindi questo è un po' un ricordo, diciamo, di quelle che erano le nostre modalità di vita attorno alla Lamone.